Dunque, Garten of Banban? Non sono del tutto sicuro di aver pronunciato bene il nome, ma soprattutto non sono del tutto sicuro che loro, gli sviluppatori, abbiano pronunciato e scritto bene il nome. Che roba è Garten of Banban? È semplicemente un gioco horror di quelli che è horror, ma non dovrebbe essere horror, poppy playtime praticamente, ecco, tipo quello. Quindi, senza ulteriori indugi, io andrei a fare New Game. Ovviamente il gioco non è tradotto manco se volessi, ecco, pagarlo, quindi cercherò di, ecco, fare un po' di traduzioni. Per i genitori che stanno cercando i loro bambini sperduti, il tempo è un argomento delicato. Clicca sull'orologio per avanzare con il tempo. Va bene. Ho salve. Ho salve di nuovo. Ho salve ma al buio. Quindi, ok, quindi manipoliamo il tempo, è quello che mi stai cercando di dire gioco. Mio Dio, la sensibilità del mouse, ragazzi, mio Dio. E quindi che devo fare, scusami? Palla rossa? No. PC? C'era un coso qui. Mangia i vegetali? Non in quel senso, ragazzi, eh. Mangia, appunto, le verdure, le verdure, la frutta e diventa forte come me. Proprio. E porta blu. Scheda blu. Opla. Che roba è? È un drone? È un drone? The remote requires two batteries. Ok. Questo cos'è? Cara mamma, mi sto nascondendo in una stanza, ma devo combattere i mostri. Il mostro, credo, parla al singolare. È l'unica chance che ho to make Claire like me. Quindi, eh, abbiamo bisogno di due batterie. Ora, le batterie, dov'è che... No. Una batteria. Ma tu guarda. Però le macchinette sono enormi. Un'altra batteria. E quindi adesso possiamo... Oh sì che possiamo. Dov'è? Che fa? Allora? Left mouse button to use your toy. Ah, io proprio gli dico... Press right mouse button to teleport the toy to the nearest room. Non... Non... Aaaaaa... Pof. Scusa. Andrà a sbattere e premere quel tasto? Oh, sì che lo farà. Vada, ci sbatta. Ci sbatta pure. Perfetto. Perfetto. Oh. De chi? Che si... Salve. Del... Arrivederci. Salve. Che fa? Lui qua? Opila is unbelievably angry. È incredibilmente affamata. Feed it... Sei eggs. Va bene. Nutrila con sei uova. Noi dobbiamo trovare delle uova. È tipo questo. Questo è un uovo, per esempio. Io glielo do. Perfetto. È easy, dai, è easy. Prendiamo un altro uovo. E poi io mi chiedo, no? Io ho gli horror, non è che... Cioè, non ci provo proprio tutta sta simpatia. Perché continuo a giocarli? Un altro uovo. Posso prenderne uno solo per volta? Ah no, ok. Posso... Non posso. Perché non posso? E soprattutto, com'è che posso... Dai, c'è un uovo qui, lo vedo. Tanto... Magna di le uova. Alla faccia dell'uovo. Era enorme questo. Io mi dimentico che posso correre, tra l'altro. Oh, te, magna. Ah, è quello lì sotto cos'è? Cosa ci fa soprattutto qui? Ah, sì, ha attivato quel bottone. Quindi io adesso faccio così. A volte non prende bene il tasto. Lo lancio. Lancio il drone. Con quale violenza gli si è buttato? Oh, eccolo qua. To, magna l'uovo. Uno solo ne avevo? Impossibile, raga. Ne avevo due. Un altro uovo. Attenzione. Cosa mi sta sputando? Oh, c'è del giallo qui. Buono, eh? Quindi nulla. Apriamo qui. Naughty Corner. Ah, è l'angolo della punizione, questo. Paiuca. Cosa ho attivato? Esattamente. Ah, qui. Un martello. Distraction at one. Distrazione a uno. Perché? Tra l'altro che uccello è lei. Non mi va di sapere. Ball pit closed. Arrivederla. Press space to jump. Me l'hai detto un po' troppo tardi. E io mo che fa... Ah, c'è del giallume. Che cosa? Vabbè. Non mi faccio domande. Sto ponendo troppe domande. Io direi facciamo così. E facciamo così. Quanto lento. Quanto lento. Oddio. Quello è un enigma a cui io non saprei rispondere ora come ora. Ah. Oh. Ok. Voglio giocare anch'io con il buco. Perché tutti si divertono? Quindi praticamente c'è sto bambino che si sta lamentando del fatto che tutti si divertono in sto buco. E lui no. Perché lui non c'è. Non c'è andato. E dice ma i miei amici urlano fortissimo. Però l'uccello è divertente alla fine. No? No. Ok. Questo non ne ho la più palida idea. E questo non ne ho la più palida idea. Allora sicuro... Forse questo è rosso. Sì. Forse questo è rosso. Questo non ne ho idea. Dobbiamo tornare indietro a vedere di cosa sono fatti questi cosi. L'uccellino è rosa. Quello che è rosso. Vedi che me lo ricordavo? Quello è rosso. Vedi? Lui è bianco. Quello col fiocchettino è bianco. Lui è blu. Poi c'è il tizio verdone. E infatti è quello lì. E c'è quello che è arancio. Ok. Ok. Blu. E questo dovrebbe essere arancio. Oh. Abbiamo aperto la porta del bagno palese con la tessera magnetica arancione. Che è lì. Salve. Posso... No. Io sai com'è? Vorrei... No? No dai no. No dai oh. Dai. Dai. Non credo sia giusto quello che vuoi fare nei miei confronti. E salve. Stai lì per cortesia. Ah. Ah. Ce l'ho dietro lo so. Ce l'ho dietro lo so. Non posso? Non posso? Premi E per reincarnarti. Ok. Ma non lo vedo manco che mi insegue ragazzi. Ah no. Eccolo lì che mi insegue. Vedete che mi insegue. Ma è buggato. Io non dove vado. Scusami. Dov'è che devo andare? E non posso. E... Magnami. Che te devo dire? E non posso. Non posso. Non posso andare? Che te devo dire? Che te devo... Che devo fare io? Che devo fare? Ok. Forse ci sono ragazzi. Forse ci sono. Perché la tessera che abbiamo preso era arancione. Quindi di fronte lì. Ci deve essere... E infatti vedi c'è una roba e lui adesso arriverà. Perché arriverà. Vedi che sta già arrivando. Vedi. Lui adesso scende. Guardalo. Che cucciolo proprio. Guardalo. Che dolce. Sì. Tu non ti muovi vero da lì? O sì. Quanto ti muovi soprattutto. Via. È già dietro di me. È già dietro di me. Strombolo. Arrivederci eh. Boom. Bella. Bella cascata questa. Quindi mo... Ah. Cattese l'arancione. Eh. Porta arancione. Mi sembra giusto. Buon salve. Che famo. Biglietto aereo. Gate B13. Boarding time 3.23. Present at check-in. Sit D2. Perfetto. È un biglietto aereo. Ma se... Aspetta. Aspetta. Perché c'è un QR. Io quando vedo il QR ragazzi devo farlo. Ok ragazzi. Faccio uno screen. E vi faccio vedere... Metto in edit. È carina. Carino. 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 È bello. 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 E non sappiamo più che dobbiamo fare. Quindi bene. Quindi bravi. Quindi a cosa serve il nostro biglietto aereo effettivamente? E quindi... Oh. Vai. Vai drone. Bravissimo. Bravissimo. E quindi... Che famo? Oh. Oh c'è lo spia. Oh posso? Ah no. Ascensorino. Comodo. Molto molto comodo. Sì. Molto molto comodo. Posso... Arrivederla. Dunque scendiamo nell'entroterra ragazzi. Scendiamo nell'entroterra. Si fa gustosa la situazione. Bella croccantina. Il drone rimane lì. E... Salve. Chi ha ruttato? Chi... Ha ruttato? No. No. Lo sta Arrivederci Sono morto, sono vivo Grazie per aver giocato Wishlist a il sequel Ma scusami, così mi abbandoni? E nulla ragazzi Io pensavo di farci due video Ma a questo punto non lo so quanti video Ne facciamo uscire Perché ho registrato Veramente pochissimo di questo E quando esce Garten of Van Van 2? Nulla, il gioco non è ancora uscito, il secondo almeno, e quindi dobbiamo aspettare. Grazie, arrivederci.